Nel corso di una conferenza stampa, Sandro Mariani, presidente della Commissione Speciale per le Modifiche alla Legge Elettorale per l'Attuazione e le Modifiche allo Statuto, ha spiegato l'evoluzione dei lavori sia in Commissione sia in Aula, che hanno portato al ritiro del suo progetto di legge l'approvazione del PDL 448 del 2017 in materia di legge elettorale. Io ho detto fin dall'inizio che avendo assunto la guida della Commissione pochi giorni fa, il 17 luglio, ho fatto una proposta che sono abituato a lavorare a testa bassa e la mia proposta era quella di alzare la soglia di sbarramento, come accade oggi in Senato, perché trovo veramente assurdo che ci sia il proliferare di numerosi partiti, e numerose realtà che poi in Consiglio regionale rappresentano porzioni molto ristrette di territorio. Ho detto fin dall'inizio che il percorso andava a buon fine soltanto se ci fosse stata condivisione e così non è stato e quindi ho ritirato il progetto di legge come promesso all'inizio della discussione. Ho voluto naturalmente aprire una discussione, una riflessione. Io penso che ai cittadini non appassiona il proliferare di realtà che poi sono portatori di interessi politici molto specifici e trovo veramente impossibile fare il bene d'Abruzzo se naturalmente il consigliere eletto è legato ad una poca manciata di voti e di consensi.